Ciao a tutti amici Nerazzurri, bentornati sul canale e benvenuti su Filippo Travontana TV. Allora, ho aspettato un pochino di più oggi per fare il video perché ho aspettato che parlasse Simone Inzaghi in conferenza stampa per capire un po' le sue sensazioni prima di Inter Atletico Madrid. Ricordiamo domani sera, prima partita del nuovo anno di Champions League, andata degli ottavi di finale, si gioca a San Siro, partita molto molto difficile contro una squadra come l'Atletico Madrid con grande esperienza internazionale, con un grande allenatore come Simeone che negli anni con l'Atletico in Europa ha fatto sempre molto bene, giocando due finali di Champions, vincendo credo due o tre volte l'Europa League. Insomma, stiamo parlando di un allenatore che ha tantissima esperienza con la sua squadra, con l'Atletico Madrid, ma anche con l'Atletico Madrid nelle competizioni europee. Vinte e quasi vinte in Champions League, ci ricorderemo, la Champions persa con il Real Madrid di Ancelotti, avendo al 94esimo 1-0, poi arrivò il calcio d'angolo da cui scaturì il gol di testa di Sergio Ramos, poi Ancelotti vinse 4-1, la decima di Champions League del Real Madrid, che poi nel frattempo ne ha vinte tantissime altre. Comunque, detto questo, l'Inter si è allenata oggi a da piano gentile, quindi tutti gli effettivi che erano disponibili con la Salernitana sono disponibili anche con l'Atletico di Madrid. Ovviamente ci sono le assenze che già conoscevamo, Quadrado lo nomino, ma ormai lo sapete già a memoria. Sensi, anche lui dovrà operare la caviglia e quindi non ci sarà. E poi si è aggiunto anche settimana scorsa l'infortunio di Acerbi, che ovviamente, come abbiamo già detto più volte, non ci sarà domani con l'Atletico, non credo che ci sarà nemmeno domenica contro il Lecce, ma poi insomma giorno dopo giorno vedremo di capire quali saranno le novità sull'infermeria che arrivano da piano gentile. Allora, parole di Simone, velocemente diamo prima delle parole di Simone Inzaghi anche alla possibile formazione. L'unico vero dubbio attuale di Inzaghi è sulla fascia destra, Dumfries o Darmian. Seguiamo la logica del turnover fatto con la Salernitana, con Dumfries titolare, quindi seguiamo quella logica lì. Solo per quello andiamo a mettere Darmian tra i titolari, quindi Sommeri in porta, la difesa 3 titolare confermata con Pavara braccetto di destra, Bastoni braccetto di sinistra e De Vrij in mezzo, ricordiamo ancora una volta Cervi infortunato, qui Darmian a destra, Di Marco a sinistra, Ciala, Barella e Mkhitaryan in mezzo, meglio, Barella, Ciala e Mkhitaryan in mezzo con Lautaro e Turam davanti, poi ovviamente tutti gli altri disponibili in panchina a cominciare da Frattesi che è recuperato e sta bene. Allora, parliamo un po' di quello che ha detto Inzaghi, perché Inzaghi ha detto ovviamente che si aspetta una partita molto difficile e questa è la verità, ma sono anche frasi di rito. Partiamo da lì per allargarci sul discorso che riguarda l'Atletico Madrid. Lui ha paragonato un pochino l'Atletico Madrid all'ottavo di finale con il Porto l'anno scorso, cercando di far capire che come tipo di partita sarà simile, sarà tirata nella stessa maniera con una squadra come l'Atletico Madrid che sa sia proporre gioco, come ha fatto quest'anno, sia comunque tornare all'antico e difendersi. Inzaghi punta molto su quello, dice che l'Atletico Madrid quest'anno ha cambiato modo di giocare rispetto alla filosofia di Simeone, che è sempre stata quella della fase difensiva esasperata con il contropiede, il gol dell'1-0 e poi non far passare uno spillo. Con quel tipo di mentalità e con quel tipo di tattica comunque Simeone ci ha vinto dei campionati, ci ha vinto dell'Europa League e ci ha fatto delle finali di Champions, quindi insomma non proprio cose così inventate dal nulla giusto per distruggere il gioco avversario, no. Però ha detto Inzaghi che quest'anno l'Atletico Madrid un po' è cambiato. Io effettivamente anche per lavoro a Tele Lombardia avevo fatto la telecronaca insieme a Cristiano Ruiu della semifinale di Supercoppa di Spagna a Riad, Real Madrid vince 4-3 sull'Atletico ai supplementari, però effettivamente l'Atletico ha giocato una partita sparagnina, una partita ha votato all'attacco e infatti è finita 4-3. Quindi Simone Inzaghi dice è una squadra che quest'anno si è un po' snaturata rispetto agli anni scorsi, quindi ha cominciato a proporre calcio per segnare di più subendo qualche gol in più, facendo forse in campionato qualche punto in meno, ma è una squadra che sa anche tornare all'antico se necessario, quindi sa anche chiudersi, ripartire e bloccare il gioco avversario. Quindi si aspetta Inzaghi conoscendo bene l'Atletico, conoscendo bene anche Simeone, forse qualche trappolone da parte del suo ex compagno di squadra alla Lazio che ha fatto vedere di saper giocare in modo offensivo, ma magari guardando l'Inter come gioca, domani ci ripensa e fa giocare la squadra in maniera difensiva. Comunque detto questo, Inzaghi ha fatto capire che la squadra sta bene, che ha a disposizione tanti giocatori, che fino adesso, ecco qui invece si torna a pensare in ottica campionato, quindi post-salernitana e pre-Lecce, quindi l'Atletico si trova in mezzo e siccome comunque si parla molto del campionato dell'Inter, del vantaggio che l'Inter ha nei confronti di Juventus e Milan, ovviamente si dà un occhio anche quello perché le domande gli sono state fatte. Gestirai meglio la Champions League considerando che hai nove punti di vantaggio sulla seconda e undici sulla terza e devi anche recuperare una partita. Inzaghi dice sì però attenzione, è vero che adesso abbiamo un bel vantaggio, però adesso iniziano i doppi impegni e quando iniziano i doppi impegni si fa fatica. Quando si fa fatica è probabile che si possa perdere dei punti, si possano perdere dei punti e fa l'esempio della Juventus, non tanto per il doppi impegno ma perché in una o due partite lui dice in 15-20 giorni può cambiare il mondo. Guardate cosa è successo nel campionato adesso, con la Juve prima in classifica di un punto sull'Inter, in 15-20 giorni ci troviamo a più nove su quella che era davanti a noi di un punto. Quindi lui dice basta una distrazione, basta un affaticamento, un infortunio, infatti lui dice speriamo di non avere infortuni da qua in poi, per rimescolare un po' tutte le carte. Quindi questo è quello che dice Inzaghi, attenzione a darci già per vittoriosi di un campionato, con un campionato finito, adesso iniziano i doppi impegni, noi sulla Champions League comunque ci puntiamo, non è che la giochiamo per farci una gita, la giochiamo per arrivare fino in fondo esattamente come l'anno scorso, infatti parla di più consapevolezza rispetto agli anni scorsi e quindi attenzione che mettendoci comunque giocatori, energia, fisico, impegno e mentale, fisico, scusate il gioco di parole, per la Champions League si rischia magari di arrivare meno freschi alla partita di campionato della domenica e questo è storia, non è certo una cosa che si è inventato Simone Inzaghi, quindi tiene tutti coi piedi per terra e dice aspettate a dire che il campionato è finito, noi stiamo facendo molto bene e quindi vogliamo continuare a fare molto bene ma adesso inizia un periodo un pochino più difficile dove bisogna gestire bene le forze e spera appunto di non avere infortuni che gli consentano appunto, la mancanza di infortuni, di gestire meglio il turnover. Quindi questo è quello, il discorso che fa Inzaghi sul campionato e ha ragione comunque, stiamo parlando di una squadra che ha macinato gioco, ha macinato gol, ha macinato punti, però comunque si trova ancora a dover gestire questo vantaggio. L'Inter giocherà con l'Atletico Madrid e poi andrà a giocare una trasferta molto difficile a Lecce, sperando di essere il più freschi possibile. Quello che voglio farvi capire è che abbiamo visto il filotto clamoroso del Milan in campionato, con una partita settimana il Milan ha recuperato sulla Juventus, ha perso con il Monza, caso strano proprio quando ha avuto il giovedì sera impegnato in una partita ufficiale per il passaggio agli ottavi di Europa League. Il Milan fa un filotto, vince le partite, certo non è entusiasmo nel senso che comunque qualche falla c'era ancora, ha tanti infortuni, però vince tante partite e si riporta a ridosso della Juventus che nel frattempo perde colpi. Pareggia col Verona, perde in casa con l'Udinese, pareggia con l'Empoli in casa e perde con l'Inter. Fa due punti su 12 e il Milan si trova lì con la possibilità di sorpassarla. Va a Monza e fa fatica e perde e prende quattro gol. Non ha la lucidità di gestire un due pari, Pioli recuperato, Pioli non ha la lucidità di gestire bene i cambi o comunque è costretto a fare del turnover, è costretto a fare il turnover perché giovedì sera ha giocato una partita di Europa League che ha portato via energie, che ha fatto fare fatica, che ha portato via energie anche di testa perché si è impegnati a sdoppiarsi su due impegni. E quindi questa è l'ennesima testimonianza, ma non ce n'è bisogno perché la storia parla, lo sappiamo tutti, però ogni tanto qualcuno tenta di dire che non è vero, è l'ennesima dimostrazione che quando devi gestire un turnover e le fatiche dopo una competizione internazionale infrasettimanale fai fatica. Ricordo l'Inter del triplete che vince il triplete e vince lo scudetto all'ultima giornata ma si fa sorpassare dalla Roma in primavera perché intanto gioca la Champions League per arrivare fino in fondo, oltre alla Coppa Italia. E le energie vanno via, una squadra di grandissimi giocatori e hai rischiato di perdere lo scudetto. Ricordo il Napoli l'anno scorso con la Cremonese, domina il campionato, ne cambia 9 su 11, perde con la Cremonese nel Coppa Italia. O il Milan in Coppa Italia col Toro, ne cambia 7-8 su 11, perde in casa col Toro, col Toro in 10. Ricordo l'Inter di quest'anno che va a giocare a Lisbona contro il Benfica, ne cambia 7-8 più o meno e dopo 20 minuti è sotto 3-0 a Lisbona col Benfica che fino a quel momento aveva fatto 0 punti in Champions League in quattro partite. Quindi ragazzi è più difficile quando devi giocare anche l'infrasettimanale e quindi devi essere bravo e fortunato a gestire bene le forze e a sperare di non avere comunque infortuni che ti consentano di girare bene la rosa. Non è facile, ha ragione Simone Inzaghi. Comunque abbiamo avuto tutte le novità, le parole di Inzaghi, anche la possibile formazione. Ci rivediamo noi ragazzi domani, credo domani mattina per il video, però ricordo che anche domani è il giorno della partita, quindi domani mattina credo di fare il video. Poi nel pomeriggio vediamo l'avvicinamento alla partita, se qualcosa viene fuori di interessante lo facciamo, se no vi ricordo domani dalle 20.30 su 7 gold, mi raccomando vi aspetto per Top Calcio 24 7 gold, per la diretta della partita per Inter Atletico Madrid con la telecronaca. Poi vi ricordo che dopo la partita schiacciate la campanella, avrete la notifica e quando uscirà la sintesi della telecronaca. Poi mi raccomando pollice in su se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale, è gratis e mi fate un favore. Vi ricordo anche venerdì, questo alle 11 parte il Filippo Tramontana Show sul canale YouTube, tante novità, tante rubriche, tanti ospiti e io vi aspetto. Ciao ragazzi, sempre Forza Italia!